Ma com'è il fatto che l'Inghilterra perdendomi va a finire da una parte del tabellone con la Colombia, la Svezia, la Svizzera? Va bene che in questo mondiale può succedere di tutto e di più, però gli inglesi sotto sotto sono un po' culattoni. Va bene, in questo momento però tocca dire che forse non è il Belgio che deve avere paura del Brasile per un ipotetico quarto di finale, ma è il Brasile che deve avere paura del Belgio. Allora, facciamo una cosa. Prima di iniziare a parlare di questo video, scrivetemi qui sotto nei commenti quella che potrebbe essere in questo momento un'ipotetica finale. Ricordando che nella parte sinistra del tabellone ci sono nell'ordine Uruguay-Portogallo, che andrà ad affrontare la vincente di Argentina-Francia, Brasile-Messico, Belgio-Giappone. Dall'altra parte invece abbiamo Spagna-Russia, Croazia-Danimarca, Svezia-Svizzera e Inghilterra-Colombia, proprio la parte bassa a destra del tabellone, uno schifo. Altra cosa, oggi ho fatto uscire un video all'una e mezza, se andate a farlo arrivare a 2000 like entro la mezzanotte, vi amo. Mancano 500 like, ci vuole un miracolo, però se magari non l'avete ancora fatto, vi lascio qui sotto il primo link in descrizione e ci andate subito velocemente. Allora, che dire, l'Inghilterra secondo me rispetto al Belgio era inferiore sia con le riserve sia con i titolari. Il Belgio è un qualcosina più avanti, è più pronto nella preparazione. Lo scorso mondiale di fatto è arrivato a un passo dalla semifinale. Si può dire che ha perso 1-0 con l'Argentina e con quel gol di Guain, mentre l'anno scorso per preparazione l'Inghilterra mi è arrivata ultima nel girone con l'Italia, Uruguay e Costa Rica. Ultimamente l'Inghilterra ai mondiali non ha mai fatto questo grande spettacolo, è sempre arrivata più o meno ai quarti, però una semifinale manca da tanto tempo. In questo momento sulla carta comunque, avendo la Colombia, gli ottavi, anche se niente è scontato, Svezia, Svizzera ai quarti, una semifinale ci potrebbe anche stare, quindi per l'Inghilterra sarebbe un grandissimo risultato. Sicuramente godono Spagna e Croazia, che in questo momento sono le candidate a essere le squadre che si sfideranno ai quarti di finale, dovessero vincere, male che gli vada, incontreranno chi è la più forte tra Svezia, Svizzera, Colombia e Inghilterra. Ognuno ha il suo gioco, in questo momento potrebbe essere più vastica per tutta la Svezia, quindi anche la Svezia forse che magari dal Belgio le poteva prendere, ma adesso trovando contro un'Inghilterra che è tanto gioco poco arrosto, perché insomma creano tantissimo, corrono, si dannano, ma davanti al portiere sbagliano, il Belgio con meno occasioni dimostra di essere una squadra molto più forte. Tutte e due le squadre va bene che hanno avuto un ginone di merda, perché si può dire Tunisia e Panama hanno fatto ridere, chi la guardava Tunisia-Panama manco so quanto è finita. Quindi scrivetemi secondo voi quale potrebbe essere la finale, perché potrebbe essere molto carino adesso con questo accostamento qua. Del fatto che il Belgio, di fatto, il miglior subiazzamento al mondiale è stato un quarto posto nel mondiale dell'86, quello che poi insomma non vinse ma arrivò quarta, quindi perdendo sia la semifinale sia la finale del terzo e del quarto posto. L'anno scorso arrivò ai quarti, quindi tecnicamente adesso al Giappone, poi avrà un Brasile che è partita. Quindi personalmente godo a vedere Brasile-Belgio piuttosto che vedere un Brasile-Inghilterra e un Belgio-Svizzera. Personalmente sono più contento di andarmene fuori e non guardare a casa perché non avrei voglia di vedere Inghilterra-Colombia, Inghilterra-Svezia, Inghilterra-Svizzera o Colombia-Svezia-Colombia-Svizzera rispetto a un Brasile-Belgio che promette spettacolo. Fu così che ci vanno Messico e Giappone e l'ho preso in culo. Però vabbè, a parte questo, che gol di Yanusai, il Belgio ha ottenuto in panchina grandi giocatori, quindi per questo non posso dire che il Belgio in questo momento è una delle favorite a vincere il Mondiale. Secondo me una ipotetica finale potrebbe essere Francia-Croazia. La butto lì, eh, Francia-Croazia ci potrebbe stare, cioè non è detto sicuramente. Magari escono tutte e due agli ottavi, però sulla carta hanno dimostrato di essere in questo momento squadre che possono farci. Anche se la Francia, tutto sommato, ha passeggiato con la Danimarca, neanche ha dimostrato di essere una squadra che poteva distruggere la Danimarca. Quindi ancora non si può dire niente su nessuno. Sicuramente l'Argentina ci arriva con molti handicap. Io ti ferrò l'Argentina perché, insomma, tra, secondo me, Belgio, Brasile, Francia, Spagna, Croazia, ha dei punti deboli. Non dico a livello dell'Inghilterra perché, alla fine, l'Inghilterra non ha Messi. Cioè, diamo forse un Messi all'Inghilterra, cioè uno che alla fine ti crea e segna l'Inghilterra, crea tanto, ha segnato sì col Panama e la Tunisia, ma non sono dei test affidabili. Comunque, il Belgio, lo sapevo che alla fine poteva chiudere il Gion da primo. Sicuramente gli va male per come è quella situazione del Gion, però in questo mondiale, mai dire mai, voglio dire, ha vinto la Corea contro la Germania, di che stiamo a parlare. Niente, fatemi sapere la vostra perché, chiudo qua il video, di fatto non è che ci sia stato molto altro. In questa partita abbiamo visto sicuramente il Belgio che squadra può essere anche con le riserve, molto interessante. Ha segnato uno scarto del Manchester United, hanno giocato, tra l'altro, non so quanti giocatori del Tottenham, tra Dembélé, tra Trippie che poteva esserci in panchina, tra i difensori centrali che ci potevano essere, Vertonghe e Nalderwild, insomma, e tanti altri che adesso non mi ricordo del Tottenham. Sì, Dembélé, vabbè, l'ho già detto. Ok, e niente, ragazzi, qui chiudo il video e speriamo di vedere davvero queste partite perché, di fatto, Brasile-Belgio potrebbe essere un quarto di finale, però, se ci sono quelle squadre come il Messi che hanno di fatto buttato fuori la Germania e il Giappone che ha buttato fuori comunque la Polonia, che poteva benissimo starci, eh, perché il Giappone è l'unica squadra asiatica che resisterà, che ha resistito, che è andata fino agli ottavi, vediamo come andrà. Il Belgio, di fatto, ha una possibilità incredibile, però, per arrivare agli quarti, sicuramente, però, per migliorare il suo score al Mondiale, dove Massimo, nella sua storia, è arrivata in semifinale perdendola. Qui dovrebbe, come grosso scoglio, si può dire, arrivare ai quarti senza fatiche perché, insomma, se tu affronti Belgio, se tu affronti la Tunisia, il Panama, con le riserve mi batti l'Inghilterra e puoi arrivare ai quarti senza neanche troppo stancarti, da una parte può essere un bene perché ci arrivi quasi senza aver spiegato troppe emozioni mentali, da una parte male perché ci arrivi un po' impreparato a quelle grandi partite che poi servono per passare il turno, perché qua, personalmente, sì, era importante arrivare primo o secondo perché, comunque, una squadra non gioca mai per perdere, però, di fatto, all'Inghilterra in questo momento non va mai, non si mettono a piangere gli inglesi, sono sicuro. Detto questo, niente, ci vediamo domani con il video, con la Crossbar Challenge, una specie di roba che non vi posso spoilerare. Se il video che è uscito per oggi è a Luna, arriva a 2.000 like entro la mezzanotte. Sarà difficile, ma proviamoci. Primo link in descrizione. Bella.